Oggi presento all'interno del seminario diverse metodologie di verifica e calcolo con il metodo semplificato e il metodo convenzionale all'interno del Sisma Bonus. Il Sisma Bonus è un'applicazione economica e finanziaria di quello che è la possibilità di sgravare fiscalmente gli interventi sismici di bonifica e manutenzione sismica degli edifici. Grazie.